ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video della rubrica cricut facile mettiamo subitissimo alla prova il nostro strumento apriamo un testo scriviamo buon natale ok questo adesso è un testo semplice ci si apre la barra degli strumenti di regolazione dello strumento testo andiamo a vedere che possiamo scegliere tra una serie di font scegliamone uno qualunque decente scegliamo questo che cosa ci permettono di fare i suoi strumenti di regolazione allora stile regolare ce l'abbiamo solo in stile regolare la dimensione quindi andare ad ingrandire o rimpicciolire la scritta ma la possiamo fare anche a tranquillamente attraverso queste frecce la possiamo andare a ruotare ok possiamo scegliere anche lo spazio tra le lettere e lo spazio interlinea quindi tra le parole ci fa scegliere l'allinamento centrato a destra o a sinistra quindi la giustificazione della scritta e da questo piccolo comando ci dà la possibilità di curvare verso il basso verso l'alto la nostra scritta andiamo su avanzate separa nelle lettere allora separa nelle lettere significa che ci ha permesso di isolare ogni singola lettera e permetterci di andare a muoverle magari voglio una un andamento un po' più fantasioso quindi me lo giustro tipo in questo senso ok e questo lo facciamo con il separa lettere una volta fatto questo dobbiamo semplicemente andare a riselezionarle tutte uniamo i livelli e questo è praticamente il livello unico del nostro progetto che cosa vogliamo fare con questa scritta se la dobbiamo stampare facciamo come abbiamo fatto prima andiamo su crealo e seguiamo tutto l'iter per la stampa se invece lo vogliamo tagliare lo ce li selezioniamo tutti facciamo collega e diamo come funzionamento taglio di base andiamo su crealo ok ed ecco che ci ha impostato da solo il tappetino quello lungo da 60 centimetri perché ha letto le immagini che abbiamo utilizzato noi e questa è la scritta che andrà a tagliare la nostra cricat se non vogliamo che la cricat inizia a tagliuzzare ogni lettera singolarmente dopo che abbiamo collegato i livelli andiamo su fondi ed ecco che le lettere sono state tutte fuse tra loro quindi il programma vi andrà a tagliare esattamente tutta quanta la parola senza staccare le varie lettere quindi vi ricordo prima lavoriamo magari sulle lettere singolarmente o sulla parola poi andiamo su collega e fondi ma dicevo torniamo su photoshop allora leviamo la pupattola il nome ok questo non ci serve più e andiamo a realizzare una scritta abbiamo detto che vogliamo scrivere buon natale buon natale in nero perché tanto non dobbiamo stampare niente dobbiamo solo tagliare ecco che guardate soltanto da un piccolo comando riesco a gestirmi la dimensione della mia scritta anche in questo caso solo dallo strumento sposta me la posso ingrandire come voglio sempre dal documento sposta me la posso ruotare come voglio se voglio un'angolazione particolare dallo strumento angoli mi vado a scegliere l'angolazione in questo caso me la riporto su zero gradi posso andare attraverso lo strumento testo a dare tutta una serie di effetti che sia un effetto a bandiera che sia un effetto onda che sia un effetto ad arco tutto quello che voglio me lo posso andare a realizzare semplicemente attraverso dei semplici strumenti intuitivi di default del programma posso andare anche in questo caso a scegliere mi rimpicciolisco un po la scritta se non è troppo grande allora posso scegliere se andare a separare le lettere fra loro esattamente come abbiamo fatto con il design space oppure l'interlinea quindi ad esempio se devo andare a capo mi vado poi a selezionare soltanto la scritta natale me la vado a posizionare nel punto in cui preferisco lo posso prendere me la posso spostare ok è tutto molto molto più semplice e molto più intuitivo posso anche decidere di andare a intervenire direttamente sull'immagine rasterizzando nel livello quindi facendola diventare un'immagine a tutti gli effetti vi talgo lo sfondo così vi rendete conto che è in trasparenza quindi a questo punto io semplicemente con uno strumento lazzo mi vado a selezionare la scritta la porzione della scritta una lettera quello che volete e me la vado a posizionare dove preferisco senza più nessun tipo di vincolo e le lettere sono già fuse in automatico quindi quando le lettere si separano sono separate quando si avvicinano sono già fuse da sole se volessi crearmi un offset intorno all'immagine semplicemente me ne vado su stile livello traccia che la diamo colorata così la vedete e vado a realizzarmi la traccia che può essere dall'esterno che può essere dall'interno o che può essere addirittura centrata quindi un po dentro e un po fuori dallo stile livello gli posso dare tantissime altre cose gli posso dare magari un bagliore interno gli posso dare un'ombra mi vado a scegliere da questa rotellina l'angolo della mia ombra do ok e a questo punto possiamo fare due cose allora così com'è posso andare a salvarmela come png quindi scriviamo buon natale scrivania salva me ne vado sul design space tolgo questa coscenità carica carica sfoglia buon natale copia andiamo libro abbastanza complesso li potevamo dare anche semplice continua ed ecco qui aggiunge alla tela prendiamo la nostra immagine li diamo a qualunque dimensione vogliamo andiamo su crealo e a questo punto la stampiamo e poi la tagliamo se invece volessi semplicemente eseguire il taglio come abbiamo visto prima tolgo la traccia tolgo l'ombra me la risalvo in png quindi di nuovo e scrivania lo stiamo 11 così per dargli un nome me ne arrivato sul cricut design space carica carica immagine sfoglia 11 png gli do semplice perché tanto è già la pappa è già pronta accetta a questo punto non vado a scegliere più stampa quindi taglia immagine ma vado a scegliere solo taglia immagine carica la seleziono aggiunge alla tela gli do la dimensione che voglio carico la mia immagine e da qui solo selezionando la vado su crealo ed ecco che il software me la posiziona all'interno del tappetino quindi noi in questa porzione di tappetino andremo ad applicare in vinile cartoncino quello che volete e poi su continua e la macchina taglia ok questo è per quanto riguarda la funzionalità del software e le potenzialità di questo software avete visto che le potenzialità sono decisamente scarse e non mi meraviglio che nei vari tutorial che vedo su youtube vi facciano semplicemente vedere andiamo su immagini dal design space prendete un'immagine e caricatela all'interno perché perché è impossibile realizzare un qualcosa del genere direttamente con questo programma senza andarci a smadonnare sopra è proprio veramente ridicolo e impossibile quindi bocciato assolutamente il software design space per tanti versi diciamo che lo promuovo per il fatto di avere tutta una serie di progetti già pronti di default che possono servire come template da utilizzare poi in esterna però anche questo video non è cortissimo però ho cercato di dirvi praticamente tutto in un'unica soluzione un'ultima cosa anche se volessi andare a realizzare questo quadrato con tutta una serie di tratteggi che poi mi permetteranno di piegare ok quindi di cordonare il prodotto ma che mi importa a me di fare tutti questi passaggi quando posso tranquillamente andare a realizzare lo stesso quadrato ok dargli un fondo bianco una traccia prendere la penna e crearmi dei tratteggi vado a scegliere sia la dimensione del tratteggio che lo spazio tra di loro e con un clic sul livello faccio duplica livello ok con lo strumento sposta mi seleziono 90 gradi e potrei andare avanti all'infinito ovviamente con lo strumento forma potrei realizzare qualunque tipo di tratteggio ok in qualunque tipo di posizione e anche qui togliamo lo sfondo uniamo con un clic creiamo un oggetto avanzato lo salviamo in png ce ne andiamo scrivani a prendiamo 22 tricat carica sfoglia 22 taglia lo carichiamo sulla tela ed eccolo qua quanto ci ho messo ci ho messo un minuto quindi perché devo andare a sapere come fare per realizzare il tratteggio per realizzare le tracce di taglio per realizzare un template lo facciamo con photoshop ci mettiamo tre secondi lo carichiamo sul programma e il programma crealo eccolo qua e ti taglia quello che ti deve tagliare finito promesso non ve lo nomino proprio più ve l'avevo detto che sarebbero bastati pochissimi video il print and cut l'abbiamo visto prima magari vi faccio un video un po' più specifico sul print and cut e poi passiamo alla fase questa è quella di taglio effettivo quindi con vediamo in azione proprio la macchina e detto questo è finito quindi avete bisogno di saper usare photoshop per utilizzare qualsiasi tipo di plotter non è più una questione di come si usa la cricut maker come si usa la silhouette cameo come si usa la scan cut ma è tutta una questione di come funziona photoshop per poter utilizzare qualunque tipo di macchina che ci capita davanti ok? e niente scusatemi per le chiacchiere spero che questo video vi sia utile per iniziare a fare qualche piccolo lavoretto con la vostra maker con la vostra joy o con quello che vi pare vi mando un grosso un bacio un abbraccio come sempre e alla prossima ciao ciao ciao